Pensiamo che tutti gli esseri umani alla nostra epoca siano capaci di individualizzarsi, di realizzarsi personalmente, alla collizione di non escludersi, di non escludere gli altri. Di ritrovare ciascuno il proprio giusto posto e entrare in una relazione di scambio armoniosa con gli altri. Dunque ci sono un certo numero di condizioni perché quello che tu chiami, questo terzo livello di coscienza, possa evolvere verso la propria realizzazione e verso il livello superiore. È la stessa storia. Sì, l'individualismo ha il suo posto. La realizzazione di ogni individuo, di ogni persona è estremamente importante, ma senza uccidere gli altri, senza escluderli e essendo in una relazione armoniosa e non prendendo il posto di qualcun altro e non rifiutando di assumere il proprio, ma in un mondo di relazioni responsabili, mature e che conduce a una migliore armonia. Altrimenti la natura, quello che si può chiamare la natura nel suo insieme, un'altra volta ci si diceva Dio, o il Tao, o non importa come tu chiami questo, cercherà di stabilire l'equilibrio in modo doloroso. E' così che funzionano i sistemi. Quando le parti dei sistemi riescono a vivere in un certo armonia, tutto scorre più o meno in modo sgradevole e in modo fluido. E nel momento in cui ci sono delle parti del sistema che non riconoscono più i principi, che sono i principi di sopravvivenza dei sistemi, allora il sistema decide di eliminare queste parti o le fa soffrire. O altrimenti, in funzione dei sistemi, sceglie un'altra persona che diventano allora sulle quali sono proiettati gli errori, le mancanze e che diventano delle parti molto dolorose del sistema. E fa parte dei principi che il pensiero, che si dice moderna e postmoderna, non vuole accettare evidentemente, perché viviamo in una società dove le persone che non vogliono più essere responsabili, che cercano sempre di accusare gli altri e in una società che continua e cerca di sdoganarsi o le cercano le persone di sdoganare se stesse, il modo migliore di farlo è quello di trovare un colpevole al trovare. E con una mentalità di questo tipo, fiorisco ogni tipo di processo, ogni sorta di attacco, continuo gli uni contro gli altri. Con questa mentalità non si fanno delle persone responsabili e capaci di cooperare piuttosto che di battersi. Tipicamente la società diventa una società di più in più, della guerra di tutti contro tutti, invece di essere semplicemente come la natura. La grande natura cerca di fare è una società di cooperazione e di interrelazione. Anche se, come lo dicevo due o tre giorni fa, la tigre mangia la gazzella, ma è loro un livello di funzionamento. Gli esseri umani possono funzionare a un livello più elevato e non sono più obbligati di essere delle bestie feroci che per sopravvivere distruggono gli altri. Possono creare un mondo più civilizzato e più umano. Dunque è necessario tenere conto di molti elementi per riuscire a avere un ragionamento più o meno chiaro. Grazie.